E in questi giorni si è parlato del fatto che il comune di Alghero ha perso i finanziamenti regionali per la fibra ottica. Soldi andati ai principali centri dell'isola, ne è nata una nuova polemica politica con accuse alla precedente giunta. Risponde soprattutto all'ex assessore regionale Mannoni, il capogruppo del PDL, Marco Tedde. In questi giorni la cronaca politica locale è stata interessata da interventi allarmistici urlati che lamentano la mancata partecipazione del comune di Alghero al bando regionale per le fibre ottiche attribuendo non troppo velatamente responsabilità gravissime alla precedente amministrazione e ai dirigenti comunali. Ma come spiega l'ex sindaco Marco Tedde, se questi interventori ad ogni costo avessero preso la briga di leggere l'avviso regionale avrebbero capito diverse cose. La pubblicazione è avvenuta il 17 novembre 2011 con determina 699 dell'assessorato affari generali con termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 15 febbraio 2012 e poiché per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e inefficienze il bando escludeva in modo espresso le amministrazioni cui territori sono interessati dall'intervento per la realizzazione di una rete a banda ultralarga in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas. Ovvero, l'attuale capogruppo consigliere del PDL spiega che la precedente amministrazione per motivi cronologici legati alla fine della sua esperienza, 28 novembre 2011, non avrebbe potuto partecipare e anche se avesse avuto il tempo materiale per farlo non avrebbe ugualmente partecipato in quanto espressamente esclusa perché è destinataria di importanti risorse per far passare la banda larga utilizzando gli scavi per la rete del gas nell'ambito della normativa regionale in materia. Quindi, contrariamente alle eleazioni, continua Marco Tedde, non può essere addebitato alcunché al dirigente competente che si è preso la briga, contrariamente ad altri, di leggere il bando. La lezione che dobbiamo trarne è che prima di gridare al lupo al lupo è bene accertarsi che non si tratti di un cucciolotto di peluche. Rimaniamo in attesa di una rettifica da parte del sindaco che quantomeno valga a riconfermare l'alto grado di professionalità dei nostri dirigenti. L'area marina protetta Capocaccia Isola Piana dallo scorso ottobre è attivato nelle scuole elementari medie e superiori di Alghero e Olmedo i progetti di educazione ambientale Via Mare, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e attività di educazione ambientale sul mare del sito di interesse comunitario, finanziato dalla Regione con i fondi POR Sardegna 2000-2006. I percorsi informativi proposti dall'AMP si articola in una serie di attività che, anche con l'utilizzo di metodologie ludico-ricreative, prevedono incontri in aula, esperienze sul campo, quali occasioni per i ragazzi per imparare ad osservare l'ambiente che li circonda e percepirlo dal punto di vista sensoriale ed incontra anche presso il centro visite dell'area marina protetta, il centro di prima accoglienza per tartarughe marine e cetacei della Torre di San Giacomo. Quest'ultimo dispone, grazie al progetto europeo GIONA, oltre che delle attrezzature utili al soccorso di tartarughe marine e cetacei, di modelli tridimensionali rappresentativi di questi splendidi animali. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità a tra poco.